Nuovi vertici alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta. Il nuovo presidente è Romeo Palma, attuale presidente di sezione della Corte dei Conti della Calabria, mentre i nuovi presidenti di sezione sono i magistrati Andrea Catalano, attuale presidente del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, e Antonino Porracciolo, presidente di sezione della Corte d'Appello di Palermo, che per anni ha prestato servizio anche come presidente di sezione in diversi uffici giudiziari nisseni. Nel dettaglio, le Corti di Giustizia Tributaria, denominazione che è sostituito quella di Commissione Tributaria Provinciale, sono chiamate a valutare quei casi in cui i cittadini, aziende o enti presentano ricorsi in merito ad atti relativi a tributi. I casi più frequenti riguardano gli avvisi di accertamento emessi sia dall'Agenzia delle Entrate, sia dagli enti locali, oltre alle cartelle di pagamento dell'agente della riscossione. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per le altre, il privato deve essere difeso da tecnici quali avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Le Corti giudicano con tre componenti, il Presidente e due giudici, ma dal gennaio dell'anno prossimo le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado decideranno in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro.